Cosa sono le web API? Ne avete mai sentito parlare? No, non sono quelle altre API, quelle a cui siamo abituati tutti, quelle tra back-end, front-end, no, 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 non sono quelle API lì, sono altre, sono diverse, permettono di fare altre cose, ed è una domanda che ci è stata fatta nei commenti di qualche video fa, quindi oggi rispondiamo esattamente a quella domanda, lo facciamo anche attraverso una partnership, quindi non siamo da soli questa volta, ogni tanto ci piace, sapete come avete visto in qualche altra occasione, ospitare qualcuno all'interno del nostro canale, in questo caso ci sarà Nicolas Mosca, che è anche uno dei mentor di Tomorrow Devs, che ci spiegherà e ci racconterà che cosa sono le web APIs e a che cosa servono, quindi io vi lascio in compagnia di Nicolas, come al solito se questi video vi piacciono lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, scrivete anche nei commenti se volete altre tematiche di questo tipo affrontate all'interno dei nostri video, e ovviamente entrate a far parte della community attraverso il link in descrizione, noi ci vediamo in un prossimo video, vi lascio con Nicolas, ciao! Le web API innanzitutto come termine sta per Web API che sta per Application Programming Interface, un'interfaccia che ti permette di dialogare con una certa funzionalità, In generale le API offrono dei metodi, delle funzionalità con determinati parametri che puoi richiamare e che ti semplificano la vita nell'integrare poi una determinata funzionalità senza andare poi a scoprire il codice dietro che c'è. Quindi offrono dei metodi che ti permettono di interagire con qualcosa di nativo sul dispositivo che fa girare il browser. Ci sono diverse funzionalità che sono già state integrate, che permettono di fare tante cose molto ma molto carine, e con l'episodio di oggi volevo portarne una che ho scoperto io stesso guardando un po' le documentazioni e volevo un po' condividere anche con voi questa cosa. Le API che oggi andiamo ad esaminare insieme sono le Web Share API. Sono delle API che permettono di poter interagire nativamente con il dispositivo, condividere in maniera più facile tutti i contenuti che generiamo sul nostro sito web, sulla nostra piattaforma. La cosa molto carina è che ti dà anche la possibilità di condividere testo, link, addirittura anche file veri e propri. E così ti dà la possibilità di togliere una complessità che comunque non era da poco, perché prima di queste Web API che cos'è che si poteva fare? Dei workaround che ti permettevano di raggiungere un risultato simile era quella di utilizzare i deep link, ad esempio mi viene in mente quelli di Slack, di Telegram, di Whatsapp, che permettono appunto tramite un urlo specifico di fare in modo che il browser richiami l'app e che la apra con una determinata funzionalità. Ma qual era il problema? Il problema è che molto spesso la funzionalità era molto limitata e poi potevi interagire e fare l'integrazione solo sulla singola app. Complicava la vita o ti vincolava a quelle app che supportavano i deep link. Ora invece le cose sono molto diverse, perché con la condivisione classica, pensiamo anche solo a quella di uno smartphone, ti dà la possibilità di avere tutto il menu di condivisione nativo del tuo dispositivo di Android o iOS. Le potenzialità sono davvero infinite e ti toglie di mezzo il fatto di dover usare un'app che supporti i deep link. Banalmente sarà direttamente il dispositivo che ti permette di interagire in maniera facile e comoda con tutte le app che supportano la condivisione con gli smartphone, ad esempio. La cosa molto carina è anche che funzionano sia da mobile che da desktop. Quindi non mi perderei in altre chiacchiere e vedrei insieme degli esempi per poter sperimentare e vedere assieme effettivamente quello che offre questa web API. Mi piacerebbe appunto anche renderla più una sperimentazione insieme, quindi la sto provando proprio insieme a voi. Qui nella documentazione di MDN le web share API ci dice già alcune cose che sono importanti da tenere in considerazione. Innanzitutto bisogna essere per forza in un ambiente HTTPS, non è possibile utilizzarla nei web workers, è davvero semplice in realtà. Ci sono giusto due metodi che sono can share, che serve appunto per fare una validazione e capire appunto se quel dato che vogliamo mandare è effettivamente condivisibile. E poi appunto una volta fatto il controllo col can share possiamo utilizzare effettivamente la funzione share per mandarlo veramente. Molto molto semplice. Due metodi, uno per controllare se lo puoi mandare davvero, un altro invece per mandarlo, semplice. Qui dice anche che è richiesto per forza per utilizzare queste API una transient activation, che è in pratica, in parole povere, una vera e propria azione che l'utente fa. Quindi non è possibile fare il trigger di questa funzionalità, di queste API in maniera totalmente automatica, senza che l'utente interagisca. Questo appunto per prevenire in realtà abusi stessi di questa funzionalità, che magari possono portare a vulnerabilità o problemi proprio anche legati alla user experience che poi l'utente ha. Infatti se si guarda nella documentazione di MDN, la transient activation ed è quel particolare stato della finestra del browser che indica che l'utente ha effettivamente fatto qualcosa. Ad esempio premuto un bottone, mosso il mouse, usato un menu o comunque che ci sia stata un'interazione dell'utente. Come abbiamo visto il metodo can share ritorna semplicemente un booleano, quindi true false nel caso in cui vada bene o non vada bene. Nel caso del navigator share ritorna una promise, se vi può interessare facciamo magari un contenuto a parte legato alle promise in javascript, che viene appunto risolta passando il dato correttamente al sistema operativo per poi andare a condividerlo. Qui assieme possiamo anche vederne un esempio. Andiamo a provarlo direttamente, andiamo a copiarlo, lo andiamo a copiare nel nostro file javascript e dobbiamo quindi creare un button, un tag button classico e una classe result. Quindi vado qui, button, clicca per condividere e poi una div class result, dove poi andrà scritto quello che è il risultato finale. Torniamo quindi sul nostro ambiente in locale ed ecco qui il nostro bottone. Una volta cliccato ci permette lo share automaticamente di quello che era il contenuto. Nel caso dell'esempio parliamo appunto di un link, di un testo e di un title. Questa cliccato ci permette appunto di mostrarlo qui a schermo e di poter definire come effettivamente utilizzarlo. Vedete che si può anche utilizzare le funzioni native ad esempio di Windows, in questo caso la condivisione delle vicinanze, quindi anche immagino ad esempio anche su Mac un airdrop o un altro metodo di condivisione oppure appunto anche delle app che abbiamo installato direttamente nel nostro computer. Io provo ad esempio Posta e vediamo che succede. Mi apre automaticamente Posta e mi mette il testo che era stato definito, mi mette il link, automaticamente mi gestisce la cosa. Buono direi. Molto carina la funzionalità invece della condivisione con telefono. Windows ti permette appunto adesso con un'app di condividere notifiche, chiamate, ti dà anche la possibilità di poter condividere automaticamente quello che hai direttamente sul PC, direttamente sullo smartphone in maniera molto molto carina. Ed effettivamente prendendo il cellulare e guardando mi dà proprio la notifica che è collegamento a Windows inviato da Nicolas e se apro la schermata apre direttamente il link che ho mandato. Potrebbe rendere ulteriormente connesso tutto quello che abbiamo su una pagina web. Andiamo un attimo ad analizzare anche il codice che secondo me aiuta anche a capire poi come effettivamente funziona. Abbiamo un oggetto che è lo share data che permette appunto di essere title, text, url. Appunto abbiamo creato il nostro bottone, ci siamo salvati nella variabile query selector. Abbiamo salvato anche il div class result per poter definire quello che è effettivamente il messaggio da mettere a schermo. In questo caso del test era mdm share. Inoltre abbiamo l'add event listener per fare l'evento di click direttamente sul nostro bottone e fare in modo che esegue effettivamente qualcosa. Qui utilizza già anche delle funzionalità di S7, quindi la sync await per gestire il fatto che lo share sia effettivamente promise. Con un try catch si va a gestire già la casistica di errore. Quindi nel caso in cui lo share vada a buon fine, semplicemente poi una volta fatto lo share, andrà nella riga successiva e metterà il contenuto che vediamo adesso a schermo. Nel caso invece in cui ci sia effettivamente un errore, semplicemente poi ti dice l'errore e il testo è in questione. Da qui notiamo anche un'altra cosa che la documentazione stessa ti dice ma non ti dice. Effettivamente il metodo can share potrebbe tranquillamente essere evitato perché già il comando share ti permette tranquillamente di provare a mandarlo e nel caso in cui ci sia un problema nel catch lo puoi andare a gestire automaticamente. Il can share può essere utile magari dove devi fare un check veloce, vuoi evitare che la funzionalità provi anche solo a fare qualcosa che non è possibile, ma in tutti gli altri casi effettivamente anche solo con già il metodo share potete tranquillamente provarlo e metterlo. E nel caso gestire già anche l'eccezione. Da un piccolo esperimento già notiamo una cosa, provando a passare nei files direttamente in url, io ho preso un'immagine a caso direttamente sul web per fare delle prove, notiamo che effettivamente non funziona, ma lo faccio vedere apposta perché così si vede anche il catch che il ragionamento fa. Cliccando per condividere vedete che non apre nessuna schermata ma ci dice appunto l'errore in questione, che a riga 17 appunto è stato messo. In questo caso è un type error proprio perché non si aspettava che mettavamo una cosa di questo tipo dentro i nostri array files e giustamente lui dice guarda non sono riuscito a leggere la proprietà files perché non sono neanche riuscito a convertirlo come file. Quindi da qui capiamo che gli url direttamente non vanno bene per questa funzionalità, non basta semplicemente avere l'url. E adesso andiamo invece a vedere come è possibile fare una condivisione file. Ed eccomi qui con il codice modificato senza stare ad annoiarvi nelle mie prove, ma vi riporto un po' tutte le cose che ho fatto finora in modo che siete allineati insieme a me. Allora quello che ho fatto al momento è stato aggiungere qua sopra una sync function che semplicemente non fa nient'altro che fare un create file da un url. Ovviamente ho dovuto cambiare perché appunto non potevo farlo da un dominio esterno, quindi ho fatto semplicemente che scaricare un'immagine di test e banalmente chiamarla con la mia fetch in modo che potevo tranquillamente prenderla dallo stesso dominio. Da lì appunto ho tirato fuori un blob in cui ho creato poi il mio file con il mio nome e la tipologia nel metadata. Questo mi permette appunto di ritornare effettivamente un'istanza di un file che è quello che serve per pi share. Quindi che cosa è cambiato? Share data l'ho spostato all'interno della mia chiamata di click in modo di poter utilizzare direttamente await create file all'interno del mio array files. E da qui ho poi avuto la possibilità di passare lo share data come facevamo prima nel navigator.share. Quindi andiamo a vedere adesso invece come funziona, che cosa fa e da qui capiamo dove effettivamente ci viene passato il nostro file. Facendo click per condividere ci ritroviamo ad avere la solita schermata, ci dà anche direttamente qui il file. Se ad esempio clicco di nuovo posta mi dà la possibilità di avere la mail compilata con l'allegato già dell'immagine che avevo scaricato, quindi ottimo. E poi il testo e anche il link annesso, anche come title me l'ha messo come soggetto. Quindi già qui ci permette anche di autocompilare una mail con anche un allegato annesso in maniera totalmente automatica. Passando anche solo files cambia effettivamente quella che è il tipo di condivisione che possiamo fare, perché cambia appunto che cosa stiamo condividendo. In questo caso mi dà addirittura tipo lo strumento di cattura direttamente di Windows. Aprendolo mi permette direttamente dallo strumento di cattura e poter poi andare a modificarlo anche con Paint, quindi ti dà la possibilità di poter interagire meglio anche con le immagini. Abbiamo anche la possibilità di passare più file contemporaneamente. In questo caso non ho fatto nient'altro che mettere tre grid file uno dietro l'altro banalmente per fare un test. E andando a fare clic per condividere mi ritrovo ad esempio nel mettere posta che mi carica tutti gli allegati insieme. Quindi comunque abbiamo anche la possibilità di caricare più allegati contemporaneamente. Ok mi sono fatto un po' prendere la mano ma ci tenevo un po' a lasciare anche una pagina di test che vi permette di poter provare tranquillamente con un semplice link che metto qui in descrizione tutte le funzionalità che abbiamo visto oggi. Ho semplicemente fatto una paginetta, ho messo un po' Bootstrap e ho un po' configurato il tutto per renderlo il più pulito possibile e poter permettere di testare un po' tutte le casistiche. Spiego al volo che la create file è rimasta identica, semplicemente ho parametrizzato passando sia il file che il nome che il tipo. Quindi semplicemente fa quello che fa prima ma ci permette appunto di almeno parametrizzare. Altra cosa, ho separato la unclick button che ora appunto permette di fare una share data a seconda dell'ID del bottone. Ho una serie di bottoni, vengono semplicemente inizializzati tutti con un unclick. In base all'ID viene preso l'oggetto in questione, viene messo nello share data e semplicemente viene utilizzato. Di qui ho ad esempio text link image pdf all e dall'altra in base alla chiave text link image pdf all semplicemente lui prende e mostra a schermo quello che deve. In questo modo qui se faccio share di testo mi prende semplicemente solo il testo ed eccolo qui. Nel caso in cui faccio lo share di un link lo mostra in questo modo qui, nel caso di un'immagine lo mostra così e nel caso di un pdf viene semplicemente mostrato come allegato. E lo share di tutto insieme lo fa tranquillamente mettendo negli allegati tutte le tipologie che ci sono senza nessun problema. Metto appunto il link sia alla repository pubblica di github sia al link di netlify per poterlo testare tranquillamente anche magari sui vostri smartphone così mi dite anche voi se funziona correttamente, se ci sono problematiche che mi fa piacere appunto sperimentare insieme. Sicuramente fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, se avete avuto modo di testarla, se avete visto dei pregi o difetti mi farebbe molto piacere saperlo. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo allora.